Prima di iniziare il video, lascia un like ed iscriviti al canale, te ne saremmo davvero molto grati, grazie. Da quanto emerge recentemente dai media nazionali, Alberto Rizzotto, nonostante la sua giovane età, vantava un'esperienza di ben sette anni come autista. Era una figura estremamente amata, non solo personalmente, ma anche professionalmente, come sottolineato dai colleghi che evidenziano la sua autentica passione per il lavoro e la sua incondizionata disponibilità. A seguito di immagini e video in cui il Pullman pare appoggiarsi a ciò che sembra quasi una ringhiera, Massimo Fiorese, leader della compagnia proprietaria del bus, con voce tremante ha rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando visibilmente scosso l'accaduto. Tuttavia, sono stati alcuni amici di Alberto a intuire per primi che qualcosa potesse essergli successo, poco prima dell'incidente. Rizzotto aveva infatti postato un messaggio sui social che recitava Charlotte Venice. Notando la mancanza di risposte, hanno iniziato a commentare il post, temendo che l'incidente potesse essere avvenuto durante il suo percorso. Fatti sentire, ha implorato qualcuno, ma il tragico evento si era già verificato. Nei giorni a venire, ulteriori dettagli su quanto accaduto a Mestre verranno sicuramente alla luce, con la vicenda che promette di rimanere sotto i riflettori nel prossimo futuro, in attesa di scoprire nuovi sviluppi dalle indagini sull'incidente.